Qual è l'idea di un protettorato in Libia? Cosa si può fare in Libia? Come la Libia può fronteggiare il problema delle immigrazioni costruendo un presidio di democrazia nel nord dell'Africa? Questo ce lo spiega anche nella parte tecnica, soprattutto tecnica, l'ingegnere Giovanni Piccolino? Sì, noi abbiamo immaginato che creando un protettorato italiano in Libia, quindi un territorio di 150 km per 150 km, sottratto alla giurisdizione libica che è posto sotto il controllo italiano, si possa creare in quel contesto un'area di accoglienza, di sviluppo, di civiltà e di diritti per tutti gli immigrati che vengono in Italia e che non trovano posto e non hanno diritto per stare in Italia. Signori, sull'opinione chiariremo quali sono i viti ostativi e quali sono le possibilità. Grazie.